27 gli evasori totali scoperti e circa 6 milioni di euro di IVA sottratta tassazione, 28 le persone denunciate per reati fiscali di cui sei arrestate, 23 i datori di lavoro ai quali è stato contestato l'impiego di 50 lavoratori in nero comunque irregolari, 13 soggetti deferiti per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. Numeri significativi che raccontano solo in parte il meticoloso lavoro portato avanti nel 2020 dagli uomini della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Sondrio, investigatori specializzati nelle indagini di polizia economico-finanziaria, agli ordini del colonnello Antonello Reni presentati nel corso del 247esimo anniversario della Fondazione del Corpo. Lo scorso anno, 1014, gli interventi operativi portati a termine dalle fiamme gialle e 199 le indagini di polizia giudiziaria condotte volte a contrastare reati che pesano nei bilanci dello Stato e di conseguenza nelle tasche dei cittadini con pesanti ripercussioni anche sul sistema economico, quali l'evasione fiscale, anche internazionale, frodi carosello, indebite compensazioni, illeciti doganali e traffici illegali di prodotti petroliferi. Ammonta 3 milioni di euro il valore dei beni sequestrati per violazioni in materia di imposte dirette IVA, sequestrati 206 kg di prodotti energetici, 166 litri di alcol, 39 kg di sigarette di contrabbando. Nel delicato settore di tutela della spesa pubblica, 24 le indagini condotte in stretta collaborazione con la magistratura che hanno permesso, come dicevamo, di smascherare 13 furbetti che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza. Segnalati inoltre alla Corte dei Conti circa 250 mila euro di danni erariali accertati nel settore sanitario per irregolarità negli appalti. Per quanto riguarda le indagini nell'ambito dell'anticorruzione, otto le persone denunciate all'autorità giudiziaria, di cui quattro pubblici ufficiali, accusati di peculato per circa 100 mila euro. Significativo l'impegno degli uomini della Guardia di Finanza, sia in ambito di prevenzione, sia per quanto riguarda il contrasto di ogni forma di infiltrazione in ambito finanziario, economico e imprenditoriale della criminalità organizzata, al fine di tutelare con rigore la sicurezza economico-finanziaria a salvaguardia del sistema Paese. 16 le persone sottoposte ad accertamenti patrimoniali in applicazione della normativa antimafia, in particolare 527 controlli eseguiti su richieste dei prefetti per verificare proprio la documentazione antimafia. Nell'azione antiriciclaggio, i capitali illeciti, le gialle hanno segnalato 135 operazioni sospette, 790 controlli in materia di movimentazione trasfrontaliera di valuta e money transfer. 10 gli interventi effettuati a tutela del mercato dei beni e dei servizi, con il sequestro di 95 mila prodotti industriali contraffatti o comunque non sicuri, tra cui 43 mila mascherine FFP2. Sul fronte della sicurezza in montagna delle indagini in quota, gli esperti del soccorso alpino della Guardia di Finanza, delle stazioni di Madesimo, Sondrio e Bormio, hanno effettuato 367 interventi salvando 378 persone. 53 le attività di indagine svolte in alta quota, dalla montagna alle strade fino alle piazze, gli uomini delle fiamme gialle hanno effettuato 1000 servizi di controllo del territorio, 300 alle frontiere e 250 servizi di pubblica utilità. 2000 le attività dedicate ai controlli specifici per il contrasto della diffusione del contagio. Si è aperto con parole di gratitudine a tutti gli uomini della Guardia di Finanza di oggi e del passato, il discorso del colonnello Antonello Reni, pronunciato in occasione del 247esimo anniversario del corpo celebrato nella caserma Valtellina, sede vent'anni fa dell'ultima festa. Una scelta non casuale per annunciare la conclusione dei lavori di ampliamento dell'edificio, assicurato il colonnello Reni, ormai indirittura d'arrivo. I finanzieri valtellinesi, ha proseguito il comandante provinciale, durante la pandemia hanno dimostrato di saper coniugare un'incisiva e rigorosa azione di contrasto alle frodi più gravi e pericolose, con l'esigenza altrettanto primaria di difendere la parte sana della società civile, del mondo delle imprese e delle professioni, stabilendo con essa un dialogo sereno e costruttivo, improntato sulla reciproca fiducia, buona fede e cooperazione tra le parti. Andiamo avanti così, ha concluso Reni, consapevoli del valore della divisa che indossiamo con orgoglio e rispetto, senza mai fare sconti a chi opera nell'illegalità, sempre pronti a sostenere le comunità e a garantire un sistema economico sano.